i fratelli dello spazio voci dall'infinito attraverso vanda a cura di vb albano 2 giugno 1998 i fratelli dello spazio salve nel nome dell'energia pura che partita dal centro dal fulcro centrale irradia l'intera creazione investendo tutti i punti focali del cosmo è un'energia vibrante che mantiene in perfetto equilibrio e dona stabilità a tutti gli universi in modo che ognuno ne tragga beneficio questa è l'importanza dell'amore che tutto avvolge e compenetra nella stessa misura senza fare distinzione tra un pianeta e l'altro questa è la sua creazione la sua mente suprema ha concepito il tutto nell'intento di renderlo perfetto e lo sarebbe anche per voi se non ci fosse il vostro pensiero ancora alterato e molta indifferenza ogni essere nella sua interpretazione della vita crede di essere assolutamente indipendente e non si domanda se non ci fossero quella linfa vitale e quel soffio che mi alimentano accompagnandomi nel mio cammino come potrei essere autonomo nel procedere basterebbe solo avere un minimo di fede e di riconoscenza per aver ricevuto il dono della vita che tutto si trasformerebbe in una perfetta armonia che si espanderebbe nella creazione il pensiero e non parliamo solo di quello umano ma di quanti ne rimbalzano nell'infinito crea molte volte dei cambiamenti non allineati e quindi non coerenti che deviano il corso degli eventi cari fratelli umani queste parole non sono solo per voi ma per la vita di tutti gli universi per quanto possiamo capire e dedurre per quello che adesso noi siamo